11 settembre 2001, 2819 vittime. Alcuni interrogativi non sono stati ancora risolti e a pensare che Al-Qaeda non sia l'unico colpevole oggi sono in tanti. Immutato invece lo sdegno per un attentato che ha provocato morte e dolore. Il ricordo di quelle immagini è ancora oggi nitido nella nostra mente, un ricordo indelebile per chi ha assistito, anche solo attraverso la televisione, allo schianto dei due aerei e all'implosione dei due edifici. C'è chi ha perso un parente, un amico, anche qui a migliaia di chilometri di distanza. Erano tanti, infatti, gli italo-americani che nei primi anni del Novecento hanno lasciato l'Italia e soprattutto la Sicilia per cercare fortuna in un altro continente. Poi il mondo ha voltato pagina, senza mai dimenticare chi ha perso la vita donandola per salvare quella degli altri. Vigili del fuoco, agenti e volontari. 369 eroi che non moriranno mai.